Dimmi i nomi dei tre moschettieri di Dumas. Di? Chi è? Il cinese? Ciao, Antonella! Non l'avevi vista! Tutta la recipina, eh? Sì! Se vogliono dormire insieme, eh? Devi dormire con me. Subito, anche adesso. Benvenuti! Con Barbara D'Urso. Da quanto non dormo con una ragazza? La bupa e il secchione show. Non è una risposta facile. Pronti per divertirci?